Ora ci colleghiamo con il palazzo d'estate e con il Presidente. Signori miei, mai abbastanza aderati, è stato mio alto dovere nei lunghi e difficili anni dopo il crollo mondiale del 79 servire a voi nel migliore dei modi. Mai come l'ora della storia, le massi hanno diventato attraverso gli agi per fare sì che il giugno possa prosperare e trovare la magica chiave per una nuova era d'abbondanza nel fertile terreno delle minoranze privilegiate. E non sono pronti, il mondo è in attesa. Io vi do ancora una volta ciò che volete. Grazie a tutti.